Non è sfuggito alla morsa dei fan il presidente del Napoli Calcio Aurelio De Laurentiis. Nell'anno storico del terzo scudetto degli Azzurri, la notizia della sua vacanza nel Golfo di Policastro si è diffusa velocemente e l'arrivo al ristorante Lucifero a Sapri per cenare è stato accolto dai tifosi in festa. Nell'auto noleggiata con lui anche il presidente del Bari, il figlio Luigi De Laurentiis. Grande festa dunque con Genesio Torre, lo chef di Lucifero, tra l'altro tifosissimo del Napoli, che ha riservato i suoi migliori piatti per il dirigente sportivo. De Laurentiis era arrivato sulla costa cilentana a bordo dello yacht Deep Blue II accompagnato da alcuni amici e dai figli. Una puntata alla Baia del Buon Dormire, alla costa degli Infreschi e della Masseta non si è perso nessuno degli angoli più belli della costa a sud di Salerno. Immancabile la discesa poi a terra, prima a Scario e poi nella serata del 14 agosto, dopo una sosta nella Baia di Sapri, nella cittadina della Spigolatrice, dove infine in serata ha scelto il ristorante Gourmet Lucifero per una cena a base di pesce. Una serata in cui De Laurentiis si è fatto immortalare anche accanto ai fornelli. Una cena di relax pre-ferragosto senza però smettere di lavorare, perché secondo indiscrezioni a tavola con De Laurentiis c'era anche il procuratore del calciatore Veiga, che i rumors danno vicino a firmare con il Napoli campione d'Italia.